. E a negazione Ukon di Eresi Ukon con accento grave tislandese Ukon con accento grave chiocciola 1 a grosso punto chiocciola. . 0 grado Ukon con accento grave tislandese t7 barra verticale dollaro a condieresi copyright grado cgv e tislandese o con accento circonflesso grado t a negazione u condieresi apostrofo u condieresi negazione o e tislandese 8 t o barrata o e barra verticale a condieresi. . . E a negazione u condieresi t8 e tislandese o e apostrofo a condieresi. 2018.2.7. barra t1 copyright news 1 o e a condieresi 0. 0 grado Ukon con accento grave tislandese tukon con accento grave 0 barra rovesciata l a condieresi u condieresi x. . 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 E A negazione U con dieresi E Y con accento acuto 00 negazione. U con con accento grave E T islandese T T minore di grado negazione O Epsilon con accento acuto 00 negazione U con dieresi X o con tilde chiocciola T grado I con con accento acuto D, chiocciola X 1 T T grado barra verticale o con tilde barra verticale barra rovesciata P per cento T A con con accento acuto D. Chiocciola 1 A, chiocciola. Dollaro 14 barra verticale barra rovesciata con dieresi.